L'ex campionessa del mondo di ciclismo Monica Bandini è morta oggi in seguito a un malore improvviso mentre lavorava nel terreno di famiglia di Villa Grappa di Forlì. Aveva 56 anni, era nata a Faenza il 16 novembre del 1964, aveva fatto parte della nazionale di ciclismo che nella cronometro a squadra dei mondiali era riuscita a conquistare tre medaglie consecutive, bronzo nel 1987, oro nel 1988 e argento nel 1989. Monica in carriera aveva ottenuto fra i tanti risultati anche un sesto posto al Giro d'Italia e al Tour de France del 1989 e la vittoria al Giro del Trentino del 1998. La passione per la bici non l'aveva mai abbandonata portandola anche a partecipare alla Nove Colli, la regina delle Gran Fondo degli Amatori che aveva vinto quattro volte.